Ti scriverò le introduzioni e nient'altro. Hermione, sei la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. E se fossi di nuovo sgarbato... Saprei che sei tornato in te. Che cos'hai alla mano? Niente. L'altra mano. Devi dirlo a Silente. No. Silente ha già abbastanza grane a cui pensare. E poi non voglio dare soddisfazione all'Humbridge. Miseria, c'è Harry. Quella donna ti sta torturando. Se i genitori lo sapessero... Sì, ma io non li ho. Dico bene, Ron. Harry, devi denunciare questa cosa. È semplicissimo, ti stanno... No, non lo è. Hermione, qualunque cosa sia, non è semplice. Voi non capite. Aiutaci a capire. Allora... No... Grazie a tutti.